A Virginie Business Developer Mobility in HP Italy, visto che siamo di fronte a Elite 2, chiediamo quali sono gli sviluppi della Mobility in HP. Noi pensiamo di poter proporre sempre dei prodotti che hanno una maggiore produttività per le persone che lavorano su molti posti di lavoro, quindi stiamo parlando della maggior parte delle persone oggi che permettono anche il massimo della collaborazione grazie a delle caratteristiche proprie sia al notebook che al tablet. Questo è l'Elite X2 1012, è un detachable, la tastiera è una signora tastiera, vediamo come si aggancia facilmente, è retroilluminata e però ha solo la funzione di tastiera. Una volta staccata il mio tablet rimane completamente autonomo, quindi sia come porte che come sostegno. Vediamo che è orientabile fino a 150 gradi, è un prodotto che ha superato i test militari quindi molto resistente e grazie ai processori Intel Core M di nuova generazione permettono una durata di batteria maggiore oltre le 10 ore, non fanno rumore perché non hanno ventole e non si surriscaldano e inoltre danno la possibilità di avere delle prestazioni ottime benché lo spazio sia veramente ridotto. Quindi vediamo qua come abbiamo anche la possibilità di essere connesso, qui abbiamo una porta per mettere la sim e quindi questa durata di batteria è anche performante anche qualora io voglia essere connesso in rete e poter fare tutto quello che voglio. Ma questo è un singolo prodotto o ci sono in arrivo altri sviluppi? Abbiamo già da due anni vari prodotti nella gamma mobility che però erano inizialmente dei prodotti più verticali per il mondo delle healthcare, per le scuole, dei tablet anche robusti per essere utilizzati in ambiti un po' dove c'è la polvere, l'acqua e quindi adesso abbiamo questi nuovi prodotti modulari che sono che permettono di avere il massimo della sicurezza e delle potenzialità. Questo qua per esempio ha la firma per supporto alla firma grafometrica vediamo con un software che magari a secondo della pressione che posso portare riesco ad avere dei puntini più o meno forti o più semplicemente in base alla pressione che poggio il prodotto. E poi abbiamo l'Elite X3 che non ho qui ma che è un prodotto ancora che va oltre, praticamente è un phablet 6 pollici connesso a una docking diventa un desktop perché mi collego sul monitor e connesso alla lap dock mi diventa un notebook, anche un wireless la CPU è sempre questo device e ho tutto quello che voglio. Oltre all'HP Workspace che mi permette di portare tutte le mie app in questo mondo qua e avere un unico device che fa tutto.